Sarà pronta per il prossimo anno scolastico la scuola materna di Ponzano che sarà realizzata tra Viale Montegrappa e Viare della Repubblica. Stamani la posa della prima pietra da parte del sindaco Matteo Biffoni. Una cerimonia particolare perché sotto il cemento sono stati sistemati la pergamena con i nomi delle autorità e delle maestranze, il gegliato d'argento e una monetina, documenti utili a futura memoria. L'investimento è enorme sulle scuole, credo che veramente erano anni che non si facesse un investimento così importante perché ci sono i numeri, ci sono le richieste e perché vogliamo dare ai nostri ragazzi e alle nuove generazioni il meglio che gli si può dare per provare a creare, lo diciamo tante volte, generazioni più formate, più competitive e comunità migliori. Costata 2 milioni e 600 mila euro di fondi comunali, la nuova scuola ospiterà 6 sezioni per un totale di 180 alunni. È uno spazio gioco anche per i genitori. I materiali usati nella costruzione sono innovativi e particolare anche la progettazione. Una scuola sostanzialmente che dà una risposta a tutto il distretto e in più un servizio anche al quartiere attraverso appunto il centro gioco. È una scuola di circa 1600 metri quadrati con 2800 metri di spazi verdi perché è una scuola molto particolare che prevede che ci sia un rapporto molto diretto tra l'esterno e l'interno della scuola. Quindi ogni aula ha a disposizione dei piccoli pati, degli spazi dove i bambini hanno la possibilità di sperimentare anche i cambiamenti della stagione. È una scuola completamente in legno, quindi è una struttura molto innovativa che di fatto porta a Prato un esempio di edilizia scolastica eccezionalmente innovativo sia dal punto di vista costruttivo ma in generale sui temi della sostenibilità perché comunque tutti gli aspetti che possono essere fatti in questo momento in relazione ai temi di riscaldamento quindi pavimenti radianti, raccolta delle acque eccetera sono presenti in questo edificio.